Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Parliamo di cronaca e torniamo a parlare di furti. Andiamo a San Giovanni Valdarno dove c'è stata un furto con spaccata. Forzano la porta con un piede di porco e rubano 400 euro in monete. Il furto è avvenuto nella notte. Vediamo. Furto con spaccata a San Giovanni Valdarno. Nel mirino dei ladri è finito il pub relax caffè di Via Vecchi a pochi passi dalla stazione ferroviaria. È successo nella notte tra lunedì e martedì, tra l'altro, ironia della sorte nel giorno del 24esimo anniversario di gestione del locale. I ladri sono riusciti a fare irruzione all'interno della struttura utilizzando un piede di porco, poi hanno portato via circa 400 euro in monete custodite all'interno della cassa ed una bottiglia di liquore. Alle spalle i malviventi però si sono lasciati ingenti danni. Circa 2.000 euro è infatti la cifra che sarà necessaria ai titolari della struttura per ripristinare gli infissi scassinati e danneggiati. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che hanno raccolto la denuncia degli esercenti nelle scorse ore e preso visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Rispetto agli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi a San Giovanni Valdarno c'è una forte preoccupazione. A dirlo è il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che aggiunge come amministrazione siamo costantemente in contatto con le forze dell'ordine, con i carabinieri soprattutto ma anche con la prefettura. Sappiamo che la persona oggetto di indagini è nota alle forze dell'ordine e mi auguro che possa essere trovata una soluzione immediata. E intanto oggi il prefetto Maddalena De Luca insieme ai rappresentanti della consulta Orafa Giordana Giordini e Mauro Benvenuto hanno incontrato al Viminale il sottosegretario dell'interno l'onorevole Nicola Molteni, il capo della polizia Vittorio Pisani e il direttore centrale dell'anticrimine Alessandro Giuliani per affrontare la questione della sicurezza delle imprese del settore Orafo che da mesi sono sotto attacco dei ladri. Vediamo il servizio. Incontro al Viminale oggi sulla sicurezza Orafa resosi sempre più necessario anche alla luce degli ultimi furti. Il prefetto Maddalena De Luca insieme ai rappresentanti della consulta Orafa ha incontrato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, il capo della polizia Vittorio Pisani e il direttore centrale dell'anticrimine Alessandro Giuliano per affrontare la questione della sicurezza delle imprese del settore. Presente anche l'onorevole Tiziana Nesini. Al centro dell'incontro la richiesta di misure preventive migliori per innalzare il livello di sicurezza per il distretto. Dopo un'attenta disamina della situazione attuale delle misure in campo è stato deciso di dare un importante impulso alla risposta dello Stato, spiegano dalla prefettura retina, con l'impegno di potenziare anche l'attività investigativa e di inviare ad Arezzo un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l'incarico di redigere una mappatura puntuale del contesto produttivo di riferimento per un miglior coordinamento delle azioni di prevenzione. Sarà anche garantita senza limiti di tempo e fino a cessate esigenze la presenza di speciali reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, i quali, peraltro, già da qualche giorno stanno operando nella provincia in supporto alle forze di polizia. È stato inoltre preso l'importante impegno ad attuare nel quadro generale un rafforzamento degli organici delle stesse forze di polizia che tenga in considerazione la specificità del territorio aretino caratterizzato appunto dalla presenza del primo distretto orafo in Italia e in Europa. Riunione soddisfacente, confermano ancora i presenti, che ha riaffermato la volontà delle istituzioni di affrontare concretamente la questione per dare una risposta tangibile ed efficace agli imprenditori e all'intera comunità aretina. Ancora cronaca, parliamo di incidenti stradali. Due gli incidenti stradali di oggi, a poca distanza tra loro, sono successi entrambi in Valdichiana. Il primo alle due del pomeriggio nel comune di Monte San Savino in località Montagnano. Coinvolte due auto, un 56enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Il secondo, mezz'ora più tardi, alle 14.30 nel comune di Fogliano della Chiana in via Arezzo. Coinvolti in questo caso un'auto e una moto. Un 50enne è stato trasportato anch'esso in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. E adesso parliamo di sanità. Viaggiare in sicurezza, gli ambulatori della ASL Toscana Sud-Est mettono a disposizione gli ambulatori proprio per le vaccinazioni utili. Vediamo. Viaggiando o per piacere o per lavoro andiamo spesso in zone dove andiamo a incontrare malattie che non sono così tanto diffuse nel nostro paese. Un presidio, una soluzione a questo problema appunto è la vaccinazione che noi offriamo come azienda USL Toscana Sud-Est all'interno dei nostri centri vaccinali con un servizio dedicato alla medicina del viaggiatore. Viaggiare sì, ma in sicurezza. Gli ambulatori della ASL Toscana Sud-Est sono a disposizione di tutti coloro che appunto devono mettersi in viaggio e per farlo in maggior sicurezza devono magari anche effettuare una specifica vaccinazione. È possibile effettuare una consulenza durante la quale in base al tipo di viaggio che viene programmato ai luoghi che vengono visitati e anche alle singole aree a volte dei diversi paesi che andiamo a visitare viene effettuato un programma di vaccinazione che permette di dare una copertura vaccinale il più completa possibile rispetto a quelle che sono le esigenze di viaggio nei singoli paesi. Le vaccinazioni più frequentemente raccomandate sono quelle che vanno a prevenire malattie come l'epatite A, ad esempio, come la meningite, come il tifo, il colera. Da poco, da circa un anno, è disponibile sul nostro territorio anche un vaccino contro il virus della dengue. All'interno della consulenza del viaggiatore vengono anche poi affrontati temi diversi rispetto a quelle della vaccinazione, ovvero anche vengono dati dei consigli per evitare la cosiddetta diadea del viaggiatore e viene eventualmente, se è necessario, in funzione del periodo dell'anno e del paese visitato, viene anche prescritta una profilassia antimalarica da assumere durante il viaggio. Nel caso in cui uno purtroppo non abbia fatto il vaccino, ci sono dei campanelli di allarme di ritorno da un viaggio, soprattutto in zone tropicali, a cui stare attenti? È importante che al ritorno da un viaggio qualsiasi anomalia sul proprio stato di salute non venga trascurata, in particolare la febbre è uno dei sintomi più importanti da non trascurare, una febbre che può insorgere anche qualche giorno o qualche settimana dopo il rientro. In questo caso è importante contattare il proprio medico, se possibile isolarsi per evitare che fossero malattie trasmissibili di diffonderle anche nel nostro territorio e in maniera che possa essere fatto il prima possibile un'eventuale diagnosi e i trattamenti conseguenti. Ed è stato attivato un nuovo servizio nelle farmacie comunali di Arezzo per scovare nel nostro sangue la proteina C reattiva. Un nuovo servizio nelle farmacie comunali di Arezzo per la misurazione della proteina C reattiva. L'esame è stato attivato alla Campo di Marte e alla Giotto. È un esame sempre fatto capillare per cui sul sangue, con un piccolo prelievo di sangue in cui si evidenzia la presenza di questa proteina che è una proteina prodotta dal fegato quando nel nostro organismo sono presenti degli stati infiammatori per cui è un monitoraggio di quelle malattie croniche dovute a infiammazione e comunque potrebbe essere un primo esame per poi rivolgersi al medico nel caso venisse un esame positivo per poter poi capire quale stato infiammatorio c'è, dove è per cui indagini più approfondite e mirare una terapia sempre in accordo con il medico. C'è bisogno di una prenotazione? No, l'unica cosa è che è un esame che va fatto possibilmente a digiuno, bisogna essere a digiuno da almeno 7-8 ore per cui la mattina si può venire in farmacia e farlo. Prosegue così il percorso impostato dalle farmacie comunali di Arezzo verso il modello di farmacia dei servizi. Per essere sempre più presenti nei confronti del cittadino e offrire servizi rapidi e veloci e dare risposte in maniera adeguata. Adesso parliamo di viabilità, andiamo in Casentino, disagi per i casentinesi per colpa appunto dei cantieri. Il sindaco Bagnoli torna sulla questione della SR 71. Ascoltiamo. Si torna a parlare della SR 71 e purtroppo non per buone notizie perché i cantieri che sono presenti attualmente lungo la SR 71, tratto che da Bibiena arriva ad Arezzo, purtroppo stanno dando molti disagi ai casentinesi. La viabilità casentinese ancora al centro delle polemiche con il sindaco di Bibiena Filippo Bagnoli che torna sulla questione delicata della Statale 71 all'indomani dell'annuncio di un altro senso unico alternato in località Calbenzano a Monte della Strada in località Gravenna. Ho chiesto a Regione Toscana che ponga maggiore attenzione appunto alla gestione dei cantieri stessi. È vero che i lavori sono necessari perché la strada SR 71 è una strada molto importante e in questo momento purtroppo nel tratto casentinese è una strada poco sicura ma soprattutto che non permette una percorribilità adeguata a quelle che sono le esigenze di noi casentinesi delle aziende del casentino e di quello che è il tessuto economico ma anche sociale del casentino stesso. Quindi servono maggiori interventi e sono giusti i lavori però i lavori devono anche essere gestiti in una maniera adeguata e soprattutto i disagi che comportano i lavori devono in qualche modo essere ridotti a minimi termini perché non è pensabile che ci possano essere più sensi unici alternati appunto nel tratto di SR 71 del casentino. Peraltro in un momento molto importante sia dal punto di vista economico della vallata ma anche dal punto di vista turistico e lavorativo. Un investimento importante a Fogliano della Chiana sono arrivati oltre 650 mila euro acquisiti per migliorare la cittadella dello sport attraverso un bando regionale. Il servizio. A Fogliano della Chiana un investimento di oltre 650 mila euro per migliorare la cittadella dello sport. Il comune infatti ha vinto un bando regionale assicurandosi così risorse importanti per migliorare e rendere più sicuri ed accoglienti gli impianti sportivi. Siamo felici di questo nuovo bando vinto, 650 mila euro per la nostra cittadella dello sport di cui 360 mila finanziati dal bando della regione toscana. Un bando a cui abbiamo lavorato molto nella scorsa legislatura e che siamo riusciti ad ottenere in questa nuova. L'abbiamo comunicato anche all'associazione Calcio Fogliano che è rimasta molto ovviamente soddisfatta. L'intervento riguarderà la riqualificazione e il rifacimento completo del vecchio campo da tennis che diventerà un'area polivalente. Un importante intervento di adeguamento sismico e di rifacimento completo della copertura dello stadio dei pini e soprattutto un'importante azione di efficientamento energetico attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico che andranno ad abbattere i costi fissi di quest'area. Oltre ad altri piccoli interventi minori e più puntuali sulle strutture esistenti. Nei prossimi mesi sarà predisposto il progetto esecutivo, dopodiché via alle procedure di affidamento dei lavori che si svolgeranno nel corso del 2025. Poi gli investimenti continueranno anche per l'area che riguarda la pallavolo, il campo secondario in erba sintetica e la piscina comunale. Due giorni dedicati all'antispecismo al mondo degli animali, alla cucina vegetale con presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, documentari, mostre fotografiche, campagne di salvataggio animali e molto altro. al via Muschio Fest, nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri ad Arezzo. Vediamo. Il messaggio ovviamente è un messaggio di antispecismo, quindi cercare di avere un rapporto diverso, comprendere che gli animali sono esseri viventi, che hanno dei diritti, che dovremmo rispettarli, che dobbiamo in assoluto cambiare il nostro rapporto con loro e soprattutto anche quello di mandare un messaggio a riguardo alla cucina vegetale, cioè iniziare a pensare che possiamo cambiare. Nasce così Muschio Fest, una due giorni dedicata all'antispecismo, al mondo degli animali e alla cucina vegetale, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio ad Arezzo, dalle 15.30 alle 21 nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri. Il programma è molto vario, quindi abbiamo presentazioni di libri, c'è la presentazione del libro edito da Cronache e ribelli, Zanne, di cui ho curato l'edizione, che appunto è un libro che parla degli animali che si ribellano all'uomo. Poi c'è un libro di cucina vegetale, cucina vegetale che spacca. Parliamo della campagna di sensibilizzazione per salvare gli anfibi, rospo bufo bufo. Ospitiamo un rifugio santuario, AgriPunk, che ci racconterà un po' che cosa sono i rifugi, come funzionano. Poi ci sono due documentari, ad esempio c'è sia Food for Profit, che è il documentario che quest'anno ha girato tantissimo, se ne è parlato molto, e poi c'è On the Wild Side, che è un documentario che analizza nel mondo il rapporto tra l'uomo e la natura e la fauna selvatica, andando a vedere che cosa significa la caccia, cioè che cos'è la caccia e quanto appunto impatto ha l'uccisione degli animali. In programma anche due merende, ovviamente completamente vegetali. Ci sono dei locali a retini che hanno deciso di darci una mano, quindi il Sarma, Bistrò e Pangea Food, e quindi faremo dei piccoli aperitivi offerti, in modo che le persone possano iniziare ad avvicinarsi a questo, provare insomma, quindi la nostra speranza infatti è quella che ci siano molte persone onnivore che vogliono avvicinarsi, vogliono fare questa prova. Adesso spostiamoci a Cortona, dove ci sono due appuntamenti culturali da segnalare. Il primo è quello legato al Teatro Archeologico 2024. È tutto pronto in città. Il 19-20-21 luglio, il Parco Archeologico di Cortona spalancherà di nuovo i cancelli e al Festival Teatrale, organizzato dall'Associazione Culturale Rumor Bianco. si tratta, tra l'altro, della sesta edizione. Ascoltiamo l'organizzatrice. Si tratta di teatro, però in un parco archeologico, il Parco Archeologico del Sodo a Cortona, quindi utilizziamo il mezzo del teatro per valorizzare un patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Cortona spalancherà di nuovi cancelli al Festival Teatrale, organizzato dall'Associazione Culturale Rumor Bianco. È infatti tutto pronto per Teatro Archeologico 2024 in programma per il 19, 20 e 21 luglio. L'evento è promosso da Museo MAEC, Comune di Cortona e Accademia Etrusca in collaborazione con molte realtà del territorio. Sia venerdì, sia sabato e sia domenica siamo in orari, partiamo alle 5 e mezza fino alle 8, 8 e mezza. A parte domenica siamo anche la mattina e sono tre appuntamenti teatrali, ma non solo, perché ci sarà una mostra, archeologia del presente, un tolco, un po' Leo Giulierini, sabato una visita guidata domenica mattina, una colazione col Vasari, un laboratorio didattico domenica, wine testing, gelato, quindi tante attività. Dico brevemente i tre spettacoli che saranno ospiti, che saranno Corridafne, quindi giocare con il mito, con Edi Laria Carlucci, sabato invece Iomini, una compagnia toscana con la Coppa del Santo, è stato uno spettacolo molto divertente, interattivo. Domenica mattina ci sarà uno spettacolo invece in anteprima, che sarà colazione con Vasari, proprio un omaggio a Vasari, e finiamo domenica, un Aspettando il vento, di Econ Luigi Delia, è uno spettacolo di crescita e di formazione. Per prendere aperta gli eventi è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo un'email a prenotazioni at rumorbianco.it ed è possibile acquistare biglietti in anticipo su Eventbrite. E restiamo a Cortona, dove domani due festival longevi e prestigiosi, che rappresentano due realtà toscane famose sia a livello nazionale che internazionale nei rispettivi settori, ovvero Arezzo Wave Love Festival per la musica e Cortona On The Move per la fotografia, si uniscono per una serata che si svolgerà alle ore 21 ad ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Wave Italia e l'Associazione Culturale On The Move sarà la fortezza del Giri Falco a Cortona ad ospitare i concerti, offrendo così al pubblico la possibilità di godere sia di proposte musicali giovani e promettenti che della vista mozzafiato dal punto più alto di Cortona dove si domina tutta la Valdichiana e il lago Trasimeno. Una scelta artistica molto variegata e articolata sarà proposta domani sera dal cantautorato del pianista napoletano Francesco Lettieri al pop rock dei genovesi Zueno molto apprezzati dai giovani, dal rock melodico della formazione salentina La Municipal che ha conquistato anche il palco del concertone del primo maggio fino al jazz afrobet dei tornavolgenti Rumba De Badas e adesso parliamo di sport chiudiamo appunto con lo sport parlando dell'arezzo calcio femminile perché è felice di raccogliere in squadra Simona Zito Zito, difensore classe 1996 ha già vestito la maglia amaranto nella prima parte della scorsa stagione durante la quale aveva messo a segno due gol. Passata poi alla Freedom a gennaio è terminato il campionato di Serie B con le piemontesi collezionando 11 presenze e 4 gol Zito è di nuovo pronta ad indossare la maglia della CF Arezzo grande personalità buona tecnica e senso del gol Simona Zito è un riforzo importante per la Rosa a disposizione di Mister Leoni nella prossima stagione 2024-2025 e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata arrivederci